Pablo Picasso Pablo Ruiz y Picasso è stato uno dei fondatori e protagonisti del cubismo, una originale avanguardia storica che ha cambiato per sempre il modo di fare e pensare l'arte. La sua lunga vita è stata segnata da tappe importanti che meritano di essere viste insieme. Pablo nasce nel 1881 a Malaga, città in cui il padre José lavorava come docente, dedicandosi alla pittura nel tempo libero. Fin da bambino mostra una particolare passione per il disegno. Un aneddoto racconta che la prima parola da lui pronunciata non è stata mamma, ma pis, dall'apith, che significa matita. Grazie al supporto paterno, il ragazzo si avvicina alla pittura e a 14 anni già dipinge il primo quadro destinato a un'esposizione, la prima comunione. Il talento di Picasso viene presto riconosciuto, tanto che vince un concorso per entrare all'Accademia d'Arte di Barcellona. Ma qui avviene l'inaspettato. Egli rifiuta, come segno di distacco dai canoni prestabiliti dall'arte ufficiale accademica, e si trasferisce a Madrid, dove conduce una vita anticonformista e disordinata. Finisce qui la sua pittura di stampo realistico e iniziano fasi artistiche nuove ed inedite, che iniziano con il cupo periodo blu, legato a un periodo di sofferenza e lutto personale, ed evolvono nel periodo rosa e nell'arte nera. Quest'ultima è influenzata dall'arte africana, con le sue maschere e sculture dai lineamenti primitivi. Nel 1907 avviene qualcosa di insolito. Picasso, con le Demoiselles d'Avignon, inaugura il cubismo, corrente artistica che scompone le forme e le indaga da più punti di vista simultaneamente. Successivamente queste forme verranno ricomposte e assemblate durante quello che viene chiamato il cubismo sintetico. Negli anni Trenta il pittore si mostra molto vicino anche a tematiche scottanti, come la guerra civile spagnola, i cui orrori vengono denunciati dalla sua guernica. Dopo una serena vecchiaia trascorsa a Cannes, Picasso si spegne nel 1973, all'età di 91 anni. Caparbio, creativo e dal temperamento forte, tuttavia Picasso aveva una fobia. Era periafobico, ossia aveva paura di diventare povero. Proprio lui, che è entrato nel Guinness dei primati, come artista più prolifico della storia.